ciao portieri in questo video vi presento i nuovi NGA Empire Evolution il palmo eolattice tedesco pro contact di 4 mm più 4 mm di schiuma ammortizzante che si estende sulla parte superiore del pollice in basso troviamo la zona anti abrasione ideata per proteggere questa parte del palmo soggetta a maggior usura indossando il guanto si avvertono subito gli elementi in silicone posizionati all'interno per garantire un maggior grip a contatto con il pallone il taglio è ipido roll finger su indice e mignolo mentre nelle dita centrali troviamo questi rinforzi reti respiranti ideati per avvolgere le dita e impedirne lo scivolamento il dorso è formato completamente da lattice e da questa zona in silicone ideata per aumentare la sicurezza delle spinte di pugno il guanto è steccato ma le stecche sono facilmente removibili la chiusura è a velcro con un cinturino elasticizzato molto lungo e regolabile il guanto avesse davvero molto aderente quindi vi consiglio di optare per una taglia più grande per il resto il guanto è molto buono e affidabile se siete interessati all'acquisto potete visitare il sito energiasoccer.com ci vediamo nel prossimo video portieri ciao ciao